ragazzi oggi ho fatto un video pazzesco per voi ci ho messo tanto a farlo quindi lasciate tanti mi piace pro 21 in realtà l'ho cambiato per evitare un po di roba praticamente in fase dell'ori me lo sono cambiato in pro 21 così nessuno sa fase dell'ori e praticamente su minecraft ho fatto un po di griff in questi server qua grazie ad un'applicazione che ti permette di fare entrare in altri server quindi per quindi ho fatto un video per voi ho fatto due ho trovato due giocato dei due server molto belli e godetevi il video buona visione ragazzi ho trovato questo server qua e spero spero di ho preso una spada grande griffiamo 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 ho già arrivato una spada ok ok si qui mi fa preso di infatti ma posso cadere bug assurdo ok ragazzi questo tipo una casa gigante di legno che figo no ho già sperato questa skin fa paura e pare che qualcuno abbia costruito sta roba lava 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 ma posso volare serio ma perché ho la skin di foglia a casa perché questo giocatore acqua allora ho rubato un pezzo di spada allora posso volare così a cavolo posso anche morire o meglio di no perché ho la spada per e non voglio essere scoperto allora io stranamente posso volare ok è un comando che si può mettere oh mio dio guarda la propria mamma di gioco è stata importante su creativa ok yeah baby yeah guardate cosa ho trovato ve lo ricordate è stato il migliore aspetta in creativa non è vero ok devo trovare un po' di ferro 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 allora qui in questo villaggio se in questa parte ci puoi trovare tante cose belle ovviamente ci trovi sono in cibo ma io volevo delle cose materiali oddio mio devo fare la casa giusta esplosivi ragazzi oh mio dio il griff il griff sta appena arrivare oddio no 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 quanto mi rimane oddio se mi becca lo soffritto devo riuscire ad aggirarli sono in creativa di nuovo allora sapete cosa faccio faccio veramente un giro velocissimo eh ragazzi lo sto per fare lo sto per fare lo sto per fare lo sto per fare oddio l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto oddio oh mio dio ragazzi oh mio dio oh mio dio ok ho il latte ho il latte quindi posso tipo farmi vedere ok che bello posso scavare chissà se se ne accoggerà oh mio dio bellissimo allora facciamo finta di niente facciamo finta che stiamo facendo le cose solite di minecraft allora credo che il gioco sia in pacifica porca miseria questo mi ha fatto vedere un infarto ok a meno qui non laga tanto guarda questi gli occhi oh mio dio oh mio dio lo devi trasportare subito uiii che figata oh mio dio oh ragazzi voi possiamo fare gli stron ci deve essere tipo il cristallo infatti sapete cosa faccio lo faccio ricoperare vita mi serve una pozione di invisibilità ma non mi devono vedere quindi tipo vado un attimo a cavolare non mi seguite tanto loro non mi devono seguire tanto no lo stanno sconfiggendo ragazzi devo fare in fretta in fretta in fretta in furia ragazzi ok rimettiamo quello che possiamo senza farci vedere io so che non se ne accorgeranno nemmeno che c'è tipo un tipo dei cristalli rigenerati oh mio dio così chiederanno da dove così chiederanno da dove spuntano guardate guardate oh mio dio poi si dicono vabbè è un bug potrebbe essere normale invece non lo è sono io ok ragazzi qualcuno qua si è morto tanto mi prendo la roba e la nascondo per non essere individuato ragazzi guardate un po' lo rimetto oh caspita oh mio dio due risate bellissime ne metto ancora un'altra ahahah 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 secondo me non si immagina che sono io perché gli sto immaginando praticamente recuperare vita ahahah oh mio dio ragazzi oh mio dio ma ragazzi ditemi se non è bellissimo ditemi se non è bellissimo ora tipo adesso mi do ora tipo mi faccio rivedere tipo faccio finta di riuscire a batterlo perché loro non si stanno chiedendo da dove vengono quelle cose là ahahah dai uccidiamolo 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 dai ce lo stiamo facendo guardatele guardatele come muore guardatele no maledette frecce vi odio non impediscono di mettersi ecco dai ender dragon ti sto aiutando guardalo come va guardatelo ma sapete cosa si può fare mi mettiamo adesso adesso tipo mi metto tutti i tutti se ne vanno andate andate pure ragazzi che tanto ve l'ho fatto rispawnare praticamente l'ender dragon può spawnare se li metto tutti i cristalli al loro posto quindi loro non si accorgeranno che tipo io praticamente però loro si accorgeranno che io non ci sono quindi devo fare in fretta ragazzi devo fare in fretta senza sospetti senza niente devo fare in fretta il più possibile no aspetta non è oh cazzo no lo sta facendo lui maledetto non mi rovinerei il lavoro no ragazzi me lo devo impedire oh mio dio oh mio dio non sto capendo cosa sta succedendo ho detto eh vabbè sarà un bug è proprio un bel bug si mi devo fidare del gioco non è un bug amico io però per non essere tipo scovato lo farei veloce vai 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 Ritornate al punto di partenza Ragazzi, griffare è difficile Aspetta, io ti doves... Pronti ragazzi? 3, 2, 1 Ragazzi, ho fatto una... Ho fatto una cavolata, ho fatto una cavolata, ho fatto una cavolata, ho fatto una cavolata Brutti! No! No, dai, è bruttissimo! Oh ragazzi, no, no, invece c'è, invece c'è, invece c'è, invece c'è, invece c'è Solo che dalla visuale non si vedeva Tipo un brutto bug bruttissimo Dai, 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 ribevi tutto, ribevi, ribevi Oh ragazzi! Il wither è spawnato Il wither è spawnato, è spawnato Molti voci dicono che cosa è successo Devo far finta di niente, almeno ti vengo beccato malissimo Ora metto tipo i maiali Che gli devono attirare il wither praticamente Ah, se ne sono accorti dell'incendio Oh ma il wither, vienesci o no? Oh vieni qua, guarda quanti... guarda... 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 Si sono pure chiesto che cosa succede alla casa Eh, non l'ho bruciata io Però c'è l'espressione che tritolo attivata Quindi se nessuno riuscirà a vedermi Potrei proprio rifare malissimo E' da tanto che non trovo un server così Ingenuo Sabbia delle anime, dove è sabbia delle anime? Ragazzi mi serve subito della sabbia delle anime Adesso L'ho fatto spawnare qua No, questo qui va nel tetto Io potrò sicuramente vedere Però Non potranno vedere qua sotto Perché Ragazzi, ragazzi cari Perché qui c'è un tetto Quindi Devo fare veloce Ragazzi, ragazzi lo so per fare Verò bannato di sicuro Ragazzi, via, 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 via Via dalla fede della terra, via, via, via Oh mio Dio, ragazzi Oh mio Dio Mo' tipo fanno Il chioccio, la roba del genere Ragazzi Bellissimo Guardate Oh mio Dio Li stanno chiedendo chi è stato Ah Che è stato un bar Oh mio Dio No Se ne sono accorti Oppure è crashato il server No Ma è crashato Oppure sono stato bannato No Sono stato proprio bannato Oddio mio Bellissimo Bravi Bravi Mi siete fatti distruggere Quasi metà casa Ragazzi Ho trovato questo server In cui c'è scritto Un'isola di sopravvivenza E qui ci sono tipo Tanti giocatori Che ci Stanno Iniziamo subito A vedere Alcuni giocatori A griffarli E infatti Questa skin Sì Allora ho scoperto Che Quando dentro di server Le skin Si cambiano Così a calpi A cavolo Allora Una armatura Io Vado subito A rubare Nelle case Bug della vita Fuori che Qui mi stia seguendo Tipo quello Madonna quante case Ok ragazzi Lo vuoi smettere Grazie Ok ragazzi 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 Oddio Odio l'acqua Ok sono vivo I ragni Schifo I ragni Che schifo Oh Quello lì è la mia skin Ragazzi Quello lì è la mia skin Quanto Di bug Cosa c'è qua Allora Questi qui Sanno che ci sono Dei griffer Hai avuto proprio ragione Amico Proprio ragione Ma Che dentro cosa c'è No ragazzi Sono curioso Spacchiamo Ah C'è una casa Con un Con Perché non c'è Non c'è Nessuna porta Ah no C'è la porta Subito Io non l'ho vista Ma non c'è niente Quindi Senza fare niente Richiudiamo E andiamo subito A griffare Ah no Ma non vuole che nessuno Entri Particamente Piccoli pezzi Di Non fatemelo dire Ragazzi Non fatemelo dire Ragazzi Non fatemelo dire Guardate un po' Oh mio dio Addio Addio Oddio No 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 Se l'ha accorto Oh mio dio Ragazzi Me ne vado a nuoto Puoi vedere Io chi sono Sono il puntatore bianco Io ho rubato Tutta la roba E quello è ancora Destinato a uccidermi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No 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 Perché l'ho fatta Ma alcuni pro lo fanno Quindi Voglio farlo anch'io Che skin di me Aspetta Anch'io ho questa skin Qui c'è la croce di Aerobrine Maledetto Come ho fatto Adesso che mi vanno Comunque devo riuscire Mi sa che quello lì è il suo amico Mi sono messi d'accordo E quel suo amico ha la mia skin E io ho una bruttissima Ragazzi Qui Bisogna griffare Ragazzi Qui 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 sono praticamente Dei solitari Non hanno niente che fare No Ragazzi Qui bisogna griffare Per bene le cose Allora Se trovavo un posto Dove suicidarmi con la lava Allora lì Avrò perso la roba Ma se riesco a uccidere Il giocatore Ragazzi Se riesco a uccidere Può sapere la sua roba Oh mio dio Che brutta skin è Forse Forse Censuro Che forse ci sono pure i bambini Che mi seguono Ok Da quello che ho capito in chat Ti ho scritto Chiudi la casa Ma è barricata la casa Ragazzi Qui ci vuole Un intervento Bisogna rubare il Ragazzi Non so cosa sta succedendo Ma Non mi trovo più Il server Che avevo selezionato Quindi Quindi forse Non lo continuo Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao